Mi è capitato che il vostro prodotto o la vostra figura in quel momento era perfetta per quel cliente? Mai vi ha detto no? Ci penso? No? Vediamo? No? Devo parlare col commercialista, con l'avvocato, con mia moglie? Mi è capitato sì o no? Capita perché troppo spesso mettiamo il focus sulle strategie, sulle tecniche e a volte non convertono i risultati perché le persone ci mettono delle barriere e l'errore più comune che facciamo è che queste barriere le diamo per scontate. Vabbè, io sono perfetto per lui, questo prodotto gli serve, non mi può mica dire di no. Razionalmente è corretto e emotivamente non sono in connessione con quella persona.